In Regione Puglia si esulta dopo che sul ponte economico si è registrata una salita del prodotto interno lurdo. A renderlo noto è stato lo Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno. Nel suo report annuale mette in evidenza come la Regione Puglia abbia avuto una crescita del 6,1% e risulta quella a più dinamica su tutto il territorio nazionale. Buone notizie anche sotto il profilo occupazionale. L'Istat attesta un aumento tendenziale di 17 mila occupati dal gennaio a marzo di quest'anno con la crescita del tasso di occupazione e riduzione di quello della disoccupazione.